A margine dell'incontro svoltosi nei giorni scorsi presso la parrocchia di San Giuseppe con i residenti di Serraspiga dove il sindaco Franz Caruso ha illustrato loro i progetti di riqualificazione che stanno interessando proprio i popolosi quartieri di San Vito e Serraspiga, il consigliere comunale, presidente della Commissione Urbanistica di Cosenza, Francesco Turco, sottolinea come questa amministrazione comunale nei confronti delle periferie sta cominciando a trasformare in fatti concreti quanto annunciato in campagna elettorale. È stato un bell'incontro, il parroco ci ha messo a disposizione i locali per illustrare i progetti di riqualificazione di San Vito e Serraspiga. Per la prima volta dopo 50 anni parliamo di fatti concreti e non di promesse, anche nei confronti di chi nel corso di questi giorni sta dicendo che sono solo cantieri così messi lì per caso, in realtà sono opere concrete. Circa 7 milioni di euro di cantieri già iniziati e a questi ne seguiranno degli altri. Penso alla zona dell'ex asilo Ritapisano che verrà ricostruita e ospiterà un nuovo asilo moderno e funzionale. Alcuni dei provvedimenti in questione comprendono la realizzazione di 5 luoghi di aggregazione di marcia a piedi, del rifacimento dei sottoservizi e dell'illuminazione. Questa amministrazione lo ha detto in campagna elettorale il sindaco Franz Caruso e la sua aggiunta ringrazio tutti gli assessori, i colleghi consiglieri ma soprattutto il sindaco perché hanno tramutato in fatti concreti quelli che erano i presupposti della nostra campagna elettorale, cioè partire dalle periferie e farle diventare centro, ricucirle alla città. Simbolicamente anche in questa zona costruiremo una rotonda che servirà proprio a dare accessibilità al quartiere, cosa che oggi è quasi impedita da delle barriere.